super hot, 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 bello a tutti ragazzi, adesso siamo nel nostro nuovo gameplay di super hot, super hot, super hot, scusatemi che se capitevi che sto per questo video, mi stavo causando molto questo video, allora l'ho aumentato un pochettino, scusate, ok, diciamo, this is about the time, che figo, grazie gli occhiali, il time è molto, allora qua dice, il tempo si muove, solo, ho una pistola armata, che cazzo, qui devo parlare al strato di Jack, no, super hot, cioè ragazzi, questo chiedebbe, un gioco che non ho capito il senso, che non ho capito il senso, che non ho capito il senso, super hot, super hot, super hot, super hot, Superhot, superhot, super No, mi amico Guarda, il coraggio deve essere colato ok ragazzi se c'è quello di fare super hot ho diventato troppo sac d'oro il sistema no no oddio ho avuto un caro è grandissimo si super hot super hot super hot super hot oh cari vero wow vado no Super Hard No Oh no! Non ci credo. Peggio la strage di Chuck Norris! Eh no! Tanto più! Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo. Non ci credo che ci credo che ci credo. Oddio ragazzi. Sei minuti di ferro. Super hot. Paolo ancora. Ok. No! Ragazzi. Sto screlando da morire. Cioè sono in 40! No! FAN CULLO FAN CULLO FAN CULLO Ragazzi POP POP QUA E VIDEO E farò un altro video